Un passo alla volta, ma più spesso un doppio passo, Paul George Ntep sta crescendo così, classe 92 del Ren, francese ma di origini camerunesi e una delle stelle nascenti della Ligane. Per lui potrebbe assicurare Walter Sabatini, uno che di giovani, se ne intende come pochi e che a gennaio aveva provato a portarlo alla Roma. In quell'epoca Ntep faceva magia in Ligde con l'Oxair, poi il trasferimento non si concluse e lui decise di firmare per il Ren. Ma in scelta fu più azzeccata per entrambi, il rendimento di Ntep da gennaio a oggi, a cavallo tra vecchio e nuovo campionato, è stato stravolgente. 5 gol in 10 partite nella scorsa stagione, rapporto di continuità con la porta che ha rinnovato anche quest'anno. Segna spesso e anche in maniera spettacolare, è un'ala d'attacco vecchio stile, chiama il dribbling e forza l'uno contro uno. Gioca a calcio divertendosi, a volte anche troppo. Cresce velocemente, passo dopo passo, con qualche doppio passo di troppo, step by step, un po' modificato. Diciamo, un tap by step. I gave you all the love I had And I own And I own